Sismogrammi e dromocrone In occasione di un evento sismico, se la stazione di rilevamento è vicina all'epicentro, sul sismogramma le onde P che arrivano per prime, le S che arrivano dopo e le L sono poco distanziate. Se invece la stazione è più lontana dall'epicentro, sul sismogramma, tra le onde P, S e L, aumenta l'intervallo. Per determinare la distanza tra stazione di rilevamento ed epicentro, si utilizza un grafico, già a disposizione in ogni stazione, che riporta sulle ascisse la distanza della stazione dall'epicentro e sulle ordinate il tempo trascorso dall'inizio del terremoto. Sul diagramma sono stati riportati i sismogrammi di due terremoti di cui si conosce la distanza dall'epicentro. Unendo i punti che indicano l'arrivo delle prime onde P nei vari sismogrammi, si è tracciata la dromocrona delle onde P. Facendo lo stesso per le onde S, si ottiene la dromocrona delle onde S. Se si sovrappone un nuovo sismogramma al grafico, facendo coincidere la distanza tra l'arrivo delle onde P e S su di esso rappresentata con l'intervallo in ordinata tra le due dromocrone, sulle ascisse si leggerà la distanza della stazione dall'epicentro.